Fervono i preparativi per la perdonanza celestiniana che dopo 717 anni dall'istituzione voluta da Pietro Damorrone e allora Papa Celestino V, rinnova ogni anno il rito dell'apertura della Porta Santa della Basilica di Collemaggio. Chiunque confessato e pentito passi attraverso la Porta Santa dal 28 agosto fino ai Vespri del 29 riceverà contemporaneamente la remissione dei peccati e l'assoluzione della pena. Il dono del perdono di Celestino V agli Aquilani è impresso sulla bolla papale portata in corteo il 28 agosto dalla Dama e dal Giovin Signore. Sono ancora aperte le selezioni per trovare chi ne vestirà i panni. Con questa settimana dovrebbero essere chiuse le domande, però noi non siamo rigidi su questo nel senso che non è un concorso pubblico. Numerosi appuntamenti musicali e teatrali dall'11 agosto al 22 agosto porteranno all'avvio delle manifestazioni con l'iniziativa Aspettando la perdonanza. In programma anche gli aperitivi culturali curati dall'associazione Volta alla Carta e una rassegna di film dedicate alla memoria dell'ex consigliere comunale Gabriele Perilli da poco scomparso. Senta, ancora per un altro anno la Porta Santa si apre dentro la chiesa di Collemaggio che è tutta abbendata, è puntellata perfettamente ma è ancora una chiesa distrutta. Che effetto fa? Purtroppo quasi ci si abitua, nel senso che questa è una delle cose secondo me alle quali dobbiamo reagire, cioè considerarla quasi una condizione di normalità, sia Collemaggio sia altri luoghi. Io credo che ci sia la necessità di un soprassalto invece generale, di recuperare quello spirito dei primi mesi dopo il terremoto. Questo lo dico a cominciare dalla struttura amministrativa burocratica che rischia di adagiarsi di nuovo su un ritmo, una routine diciamo così che non è quella della condizione straordinaria di emergenza.